Voto unanime del Consiglio Comunale per la mozione che lei ha presentato per dotare il Comune di questo piano per eliminare le barriere architettoniche. Una grande unità di intenti per un problema che però è ancora presente e viene vissuto sulla prova vele da tanti cittadini quotidianamente. Esattamente così. Il problema c'è, non viene minimamente risolto, si fanno piccoli passi, tra l'altro sono pure disarmonici, disorganizzati. Non fa parte di un progetto sistematico, per cui quelli che sono la vera e propria progettazione dell'abbattimento delle barriere architettoniche è ancora in alto mare. Tra l'altro è una progettazione complessa e difficile che vede l'intervento e l'interconnessione di vari assessorati, basti pensare a viabilità urbanistiche e cose del genere, e soprattutto ha una dimensione che non è soltanto cirichese, comunale, ma è territoriale. Tant'è che si parla di un piano del nord della città, del polo geografico del nord della nostra regione, che comprende per l'appunto da Santa Marinella, Civile e Cattarquinia. Lei non vuol sentire parlare di tavoli tecnici perché non la entusiasmano, ma allora il prossimo passo quale sarà? Allora, nella mia esperienza politica, che ormai non è più breve, purtroppo, ho notato che quando le cose non si vogliono affrontare si istituiscono i tavoli e dopo con i tavoli non si fa, si perde, è come prende il mare aperto, ci si perde. E temo che anche qua sarà l'ennesima, almeno dal mio punto di vista, grandemente timorosa scelta, ed è quella appunto del tavolo tecnico. Però dobbiamo prendere atto che esiste attualmente un tavolo tecnico ed ha una collocazione presso il tribunale. Allora, il fatto di essere nel tribunale ci dovrebbe rassicurare che le cose possono essere portate avanti in quella sede. Nel tavolo tecnico che è presente nel tribunale prevede l'associazione degli avvocati, la ASL, l'INAIL, un rappresentante del comune, che finora non ho capito chi è ancora il rappresentante del comune e poi quelli dell'associazione di categoria. Quindi è un tavolo tecnico che ha tutti i grismi per essere funzionanti. Io mi auguro che in questa circostanza rimonto un giudizio e un pregiudizio che ha dei tavoli tecnici.